La costanza di una famiglia nel seguire da vicino l'azienda nel suo sviluppo e il focus sull'innovazione. Sono i fattori che hanno reso Bonomi Industries un'eccellenza internazionale nel mercato delle valvole a sfera, con differenti applicazioni, dall'idraulica alla pneumatica, dall'ambito industriale a quello marittimo, dall'alimentare alla domotica. Made in Italy incontra l'amministratore delegato e il presidente della società, i fratelli Luciano e Sandro Bonomi, quest'ultimo da poco anche presidente di AVR, Associazione Italiana Produttori Valvole e Rubinetteria, che rappresenta una filiera che in Italia vale 9 miliardi di euro e impiega 30.000 persone. La nostra è un'avventura imprenditoriale nata nel 1954 per iniziativa di nostro padre Silvio. Da allora molte cose sono cambiate nel mercato, in particolare l'arrivo della concorrenza a basso prezzo da parte dei paesi emergenti ci ha spinto già 30 anni fa a puntare con decisione sulla fascia di mercato che è più in grado di apprezzare la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti. Nella lavorazione usiamo solo tono italiano e le nostre valvole sono garantite a vita. Abbiamo investito molto in automazione e certificazioni, elementi essenziali per lo sviluppo sui mercati internazionali. Mazzano, in provincia di Brescia, resta tuttavia il cuore della nostra attività. Qui lavorano 165 dei nostri 180 collaboratori, anche se l'export conta per il 99% del nostro fatturato che si aggira sui 44 milioni di euro. Abbiamo poi sedi anche negli Stati Uniti e in Giappone, che rappresentano assieme alla Germania i nostri mercati principali. Un'azienda con testa e cuore in Italia, ma proiettata nel mondo, che tra i suoi clienti ha avuto persino l'inventore delle valvole a sfera Howard Freeman. Bonomi Industries è l'emblema della multinazionale tricolore che ha saputo valorizzare il know-how acquisito sul territorio per creare occupazione e realizzare prodotti che si sono affermati a livello internazionale, il tutto mantenendo una struttura di impresa familiare. Abbiamo stipulato un patto di famiglia che definisce il percorso accademico e lavorativo che i nostri sette figli percorreranno nel caso intendano entrare in azienda. Intanto continuiamo a crescere e a innovare con manager che portano professionalità e competenze. abbiamo messo a punto nuove linee di produzione che ci consentono di aumentare l'efficienza e di innalzare la qualità dei nostri prodotti. Offriamo un pacchetto completo di servizi, dalla progettazione e industrializzazione del prodotto alle lavorazioni di alta precisione, ai controlli in ogni stadio di produzione sino alla consegna tempestiva. Buona parte dei processi è automatizzata, con il personale che svolge lavori a elevato valore aggiunto, anche grazie a forti investimenti nella formazione, sia tecnica che relazionale. Siamo una famiglia sempre più grande, questo per noi è motivo di forte orgoglio su cui costruiamo il nostro futuro.